ciao a tutti oggi prepareremo la crema di caffè allo yogurt il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più mezz'ora per il raffreddamento gli ingredienti sono panna fresca yogurt al caffè caffè freddo e zucchero andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato chiudiamo con il cover che il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 veniamo sul fondo del boccale lo zucchero posizioniamo la farfalla versiamo la panna che deve essere molto fredda vi consigliamo di posizionarla per 45 minuti in congelatore prima di iniziare la ricetta chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare la panna senza impostare il tempo impostando la velocità a tre e mezzo fermiamo il bimbi è trascorso circa un minuto e mezzo la panna è ben montata aggiungiamo il caffè freddo a vostro gusto può essere amaro o zuccherato e l'olio augurta al caffè chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 20 secondi resettiamo il bimbi 20 secondi a velocità 3 la crema al caffè è quasi pronta trasferiamola in frigorifero per almeno una mezz'oretta trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso la crema di caffè adesso andremo a riempire i bicchieri se lo gradite sul fondo del bicchiere prima di mettere la crema potrete versare un po' di caffè freddo crema di caffè allo yogurt grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti